Ben ritrovati da Pasqualino Lettura, nuovo appuntamento con i giornali in tv, ovviamente anche oggi troviamo spazio intanto sui quotidiani nazionali in relazione al conflitto in Palestina, ci sono ancora brutte notizie per quanto riguarda la guerra in Palestina, chiaramente anche oggi ci sono molti spazi dedicati a questa tragica vicenda, poi per quanto riguarda ovviamente le notizie regionali andiamo ancora a vedere quello che pubblicano oggi i quotidiani regionali, sia per partire con Gazzetta del Sud online, poi con il lamettino.it, poi la prima pagina come sempre del quotidiano del Sud, poi gli approfondimenti interni sempre sulle pagine del quotidiano del Sud, nella parte finale come sempre dicevamo i principali titoli dei quotidiani nazionali in edicola e poi concluderemo come sempre con lo sport, il nostro consueto appuntamento con i giornali in tv. Dicevamo, intanto andiamo a dare le prime notizie partendo da Gazzetta del Sud online, Gazzetta del Sud online nell'edizione come sempre che riguarda Catanzaro, Crotone, La Mezzaterme e Vibbo, iniziamo con una notizia che arriva da Badolato, dove le estorsioni ai baroni gallelli, le sentenze ora sono definitive, quindi le motivazioni della Cassazione nell'ambito dell'inchiesta Pietra Nera, quindi a retto fino alla Cassazione, l'inchiesta denominata Pietra Nera, che svelò l'asfissiante sistema di estorsioni subito dai baroni gallelli, proprietari della tenuta da cui prese il nome dell'operazione da parte degli esponenti badolatesi della cosca gallace gallelli. Poi ancora andiamo a vedere un'altra notizia che in qualche modo ha a che fare con la guerra in Palestina, sento sparare, ho paura, una quarantenne di borgia che è bloccata appunto in Israele. La testimonianza di Valentina Barbieri partì del 4 ottobre scorso insieme ad altre 30 persone in un viaggio in terra santa che purtroppo si sta rivelando veramente molto molto drammatico. Andiamo ora, cambiamo completamente argomento, Aldo Ferrara, parliamo di Catanzaro, Aldo Ferrara, il presidente di Unindustria Calabria, l'imprenditore Aldo Ferrara, che dice, secondo il quale la criminalità sta alzando il tiro dopo due intimidazioni. E ancora, all'ospedale di Soveria Mannelli sono stati attivati 8 nuovi ambulatori, sarà potenziata l'offerta specialistica, l'annuncio del comitato pro-ospedale di Soveria Mannelli. E poi sempre a Catanzaro, Catanzaro Servizi, l'ora delle scelte, si infittiscono i confronti tra amministrazione comunale e management sul nuovo contratto. E poi ancora, servizio di trasporto pubblico a Vibbo, primi passi verso la modernità, scrive Gazzetta del Sud Online, poi a Crotone, servirà una nuova perizia sull'aggressione a Davide Ferreiro, lo ha il Tribunale, secondo il Tribunale di Crotone, l'accertamento per sciogliere alcuni dubbi. In Aula parla la madre della ragazza usata come esca. Quindi una nuova perizia medico-legale per fare ulteriore luce sulla dinamica dell'aggressione a Davide Ferreiro e le lesioni che il 22enne bolognese subì nel pestaggio dell'11 agosto 2022 a Crotone per mano di Niccolò Passalacqua. E ancora omicidio di Maria Kindamo, l'imprenditrice, all'imbadi, Ascone davanti al riesame, il brutale delitto dell'imprenditrice, c'è l'udienza al riesame per l'unico indagato. Poi il messaggio di Gratteri ai calabresi, ai quali dice non temete sul futuro, la DDA di Catanzaro va avanti. Non mi preoccupano le lettere che arrivano da Napoli, dice il quotidiano Gazzetta del Sud Online. E ancora, per quanto riguarda la riorganizzazione delle scuole, ci sono altre notizie che riguardano l'Istituto Comprensivo di Santa Fe, ma come avevamo già letto ieri nel corso del precedente appuntamento con i giornali in tv. Andiamo sul Lametino, tra poco comunque leggeremo altre notizie a proposito delle scuole accorpate, secondo il nuovo piano di dimensionamento scolastico. C'è una notizia che è arrivata da poco, insomma ci sono arresti e sequesti di beni a Reggio Calabria, quindi un'operazione anti-Indrangheta a Reggio Calabria contro delle persone, esattamente sono 11 persone che sono ritenute affiliate alle cosche di Indrangheta, Libri e Tegano, De Stefano. L'operazione è coordinata dalla DDA di Catanzaro, quindi l'indagine condotta dalla squadra mobile, secondo le accuse, tra le cosche Libri e Tegano, De Stefano, vigeva un accordo spartitorio per le estorsioni da eseguire in alcune aree della città di Reggio Calabria. Ci sono anche dei sequestri di beni. e dicevamo Gratteri, che dice Calabresi di non temere per il futuro, perché la DDA va avanti. Poi il ministro dell'interno Piante e Dosi, in commissione antimafia, ha detto che la lotta alla criminalità è la priorità del governo. E poi ancora nella sede del Consiglio regionale della Calabria sventola la bandiera israeliana. Poi alla Mezzia il liceo classico non raggiunge 900 iscritti, docenti che sono contrari all'accorpamento, perché appunto anche il liceo classico fiorentino è interessato all'accorpamento. Il presidente della regione ha occhiuto a Istanbul incontro a vertici della compagnia aerea Turkish Airlines. L'obiettivo è attivare un volo da e per la Mezzia, appunto dalla Turchia. C'è stato questo incontro con i vertici della compagnia aerea Turkish Airlines. Poi alla Mezzia Terme, alla Mezzia Terme troviamo questa notizia. Il comune di la Mezzia avvia l'iter per gli addobbi natalizi, previste anche frasi luminose. E ancora alla Mezzia, io all'atto a chilometro zero, l'iniziativa dell'ASP al Chiosto San Domenico il 14 di ottobre. Poi alla Mezzia avvicendamento al comando della sottosezione della Polizia Stradale di la Mezzia Terme, quindi dopo 40 anni di permanenza nel reparto, il sostituto commissario coordinatore della sottosezione della Polizia Stradale di la Mezzia Terme, Giuseppe Manzo, lascia il testimone, perché appunto va in quescenza. E ancora sulla Mezzia, va cantiando la Giara, il musical, il 14 ottobre ci sarà al Teatro Grandinetti, poi alla Mezzia Terme, dicevamo scoppe il caso dell'Istituto Comprensivo Santo Femia, si cerca una mediazione sull'accorpamento delle scuole, l'Istituto Comprensivo Santo Femia che ripetiamo, precisiamo, non è che verrà chiuso, non è che verrà soppresso, sarà accorpato ad altre scuole dal punto di vista amministrativo della dirigenza scolastica, insomma non ci saranno più, diciamo non c'è più il dirigente scolastico, gli amministrativi saranno in un'unica scuola, ma non che appunto sarà soppresso come istituto, è stato fatto un po' di confusione da questo punto di vista. Poi ancora, prima edizione di pronti partenza via per la Mezzia, la presentazione il 13 di ottobre nella sala consigliare Luisi di La Mezzia Terme. Poi ultima tappa del viaggio alla scoperta dei luoghi danteschi in Calabria, poi ancora agroalimentare presentata alla cittadella regionale La Cermesse D'Eco della Calabria, eventi il 20 e 21 ottobre a Fuscaldo, poi alla Mezzia Terme il 12 ottobre nella Chiesa di San Benedetto la messa in memoria liturgica del Beato Carlo Acutis. E poi guerra Israele-Palestina, sospeso pellegrinaggio della Chiesa Lamettina in Terra Santa, ancora una notizia di un'aggressione di un agente penitenziario, questa volta nel carcere di Rossano, poi ancora sbarco di migranti al porto di Roccella, ne sono arrivati 200 di migranti, e ancora un'altra notizia, concluso l'incontro, parole ostili, ostili di parole, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, questo incontro che si è tenuto alla mezzia. Poi a Conflenti ci sarà la decima giornata provinciale in memoria dei donatori defunti. Poi alla Mezzia Terme è stata rimossa la casa dell'acqua che era nella villetta di Corso Numistrano, sarà collocata ora al parco impastato. Altra notizia dal lamettino.it, scuole lontane, in Calabria, l'unico stretto a viaggio anche di 80 minuti, disagi nell'area lamettina. E poi, un'altra notizia, è stata celebrata la giornata mondiale della consapevolezza, sindrome panspandas, questo era sempre sul lamettino.it, dunque abbiamo iniziato il nostro appuntamento come sempre con i due giornali online, Gazzetta del Sud e lamettino.it, ora andiamo all'edizione cartacea, l'edizione calabria del quotidiano del Sud che apre con il conflitto in Palestina, questa notizia in alto, bimbi e neonati trovati, decapitati nei kibbutz israeliani, l'assalto a poche centinaia di metri di confine con Gaza, intere famiglie sono state massacrate. Il saluto al capo della DDA di Catanzaro, Gratteri, anche qui sul quotidiano, le indagini vanno avanti, ma voi denunciate, il procuratore in partenza per Napoli ha partecipato a una serie di iniziative a Crotone, borsa di studio intitolata a Dodò il bimbo vittima innocente di mafia, poi ancora lussuosa auto blu da 75 mila euro per l'ASP Cosentina, scrive il quotidiano del Sud, il cavillo per evitare i limiti della spending review, la sindaca di San Giovanni in Fiore aggredita dagli ex percettori del reddito di cittadinanza, il caso a San Giovanni in Fiore, la replica, nessun attacco, quindi la sindaca denuncia questa aggressione, ma chi avrebbe aggritto la sindaca replica dicendo che non c'è stato, non si sarebbe stato nessun attacco contro la sindaca. Poi il caso di Davide Ferrero, la presunta estigatrice in aula, nessuna spedizione positiva, poi audizione del ministro, comuni sciolti per mafia, resta il primato calabrese, poi Gioia Tauro, Orsa Porti aderisce all'iniziativa in programma il 17 di ottobre, la lettera, l'appello di Goel ai sindaci della Locride, comunità psichiatriche sfrattate a Siderno, poi a Crotone, il giallo del congresso fantasma della Lega, comune di Vibbo in consiglio, licenziati tutti i punti in agenda, poi Reggio Calabria, PNRR, Versace, chiarezza sulla destinazione dei fondi, poi Catanzaro, l'intesa, ente fiera, incomodato al comune, l'opera di Attanasio, il libro su Misiano, protagonista a Pordenone, e poi ancora l'intervista, l'attore Vincenzo Leto racconta un anno di successi, scrive il quotidiano del Sud, all'interno delle pagine, come dicevamo, l'auto del commissario dell'ASP di Cosenza vale circa 75 mila euro, l'acquisto dell'ASP di Cosenza, il cavillo, appunto, per aggirare i limiti della spending review. Dopo la regina, dimessi anche i due direttori sanitari e amministrativi, la denuncia di tale Enrico, l'università, pretende la nomina di un uomo con procedimento penale pendente, scrive. E poi, anche qui, sul quotidiano del Sud, le indagini non si fermano, ma voi denunciate il saluto di Crotone a Gratteri, non vado ai documenti, mi volevano ammazzare, dice appunto il procuratore della Repubblica, ormai ex, insomma, in procinto di insediarsi appunto a Napoli, e tra l'altro Gratteri si dice non preoccupato dalla fredda accoglienza riservata dagli avvocati penalisti napoletani con un documento non è un problema mio, non mi preoccupa qualche lettera dopo che abbiamo dovuto ascoltare intercettazioni in cui dei mafiosi discutevano su come ammazzarmi. Il padre di Dodò Gabriele, il giovane appunto vittima innocente di mafia, dove appunto Gratteri è stato, il padre di Dodò dice mi avete fatto un regalo la borsa di studio intitolata al bimbo vittima innocente della mafia, poi tanti spazi sono stati liberati, sta a voi adesso occuparli l'invito rivolto ai giovani da parte di Nicola Gratteri, poi la sindaca denuncia l'angressione, la sindaca di Reggio Calabria, alcuni ex percettori del reddito di cittadinanza avrebbero accerchiato Rosaria Succur ma la replica dei disoccupati nessuno ha preso a pugni l'auto del sindaco e poi il deputato Furgio è necessario fermare il provvedimento che danneggia i porti poi trasporti Gioia Tauro l'adesione di Orsa Porti la politica ha consentito una gestione monopolistica basata sul transhipment il 17 ottobre saremo anche noi davanti ai cancelli questo era sempre sul quotidiano del sud giornate della FAI Fondo Ambiente Italiano un sorprendente patrimonio storico e paesaggistico da visitare tutte le mete previste nella tappa autunnale in Calabria poi raccogliamo i frutti della biodiversità il progetto di Goel la ricchezza microclimatica calabrese declinata in sistema agricolo avanzato scrive il quotidiano del sud Linarello spiega l'idea castuzzica non solo le industrie farmaceutiche e cosmetiche richiesta di navigabilità e balneabilità del lago Cecita da parte di tre comuni il consigliere Molinaro si impegna il consigliere regionale appunto si impegna su questa su questa vicenda e poi ancora comuni sciolti per mafia in Calabria appunto alla Calabria resta il primato sul piano di dimensionamento interviene Anna Lauro Rico penalizza le minoranze linguistiche dice la deputata ente fiera Catanzaro incomodato questa ente fiera andrà al comune dimensionamento scolastico arriva una proposta di risoluzione la consigliera Danela Palaia ha depositato l'atto parliamo ancora del piano di dimensionamento scolastico le organizzazioni sindacali del settore hanno incontrato il presidente della provincia leggiamo dalle pagine del quotidiano del sud parliamo di Catanzaro il presidente della provincia di Catanzaro e ancora a proposito del piano di dimensionamento scolastico ci sono molte scuole ramettine interessate ad accorpamenti vari scuole accorpate monta la protesta forte di senso dei dirigenti scolastici che alla provincia di Catanzaro appunto hanno avuto un incontro c'è un ennesimo cambiamento si potrebbero formare mega scuole con 1600 alunni quindi in pratica cosa prevede questo piano di dimensionamento scolastico lo ricordiamo per quanto riguarda la mezzia quindi intanto è molto contestato l'accorpamento dell'istituto comprensivo Santofemia poi c'è anche interessata la scuola Don Milani la scuola appunto Don Milani che dovrebbe essere accorpata all'istituto Manzoni Augrusio poi si è diffusa in rete la notizia dell'abbinamento tra la Manzoni Augrusio e la scuola Borrello Fiorentino quindi questo e poi nelle slide che sono state proiettate alla provincia di Catanzaro ai dirigenti scolastici si è appreso di un ennesimo cambiamento che accorpava la scuola Don Milani alla Perri Pitagora e la Manzoni Augrusio all'istituto comprensivo Gatti poi c'è la lettera di un paziente dell'ospedale della mezzia Igor Colombo al Giovanni Paolo II scrive Igor Colombo mi hanno salvato la vita e ancora la manifestazione al palio delle botti anche la mezzia con la squadra dell'associazione l'albero delle vite il corteo storico e figuranti hanno preceduto la sfilata degli spingitori e ancora sul sociale recuperare le tradizioni locali e le tecniche artigianate i laboratori in azienda quindi in un'azienda agricola di la mezzia si è svolta la prima giornata di intrecciando laboratori organizzati dall'associazione comunità di volontariato Santissimi Pietre Paolo di la mezzia terme al comune la quarta commissione consigliare i consiglieri comunali della quarta commissione consigliare hanno visitato il palazzo Greco Stella importanti ricadute per la città con il palazzo Greco Stella scrive il quotidiano del sud poi a Crotone altri territori il leggiamo il giallo del congresso fantasma leggiamo questa notizia e poi anche a a Reggio Calabria dimensionamento scolastico botte e risposta tra il centro d'est e Nucera piano fuori termini senza consultazione molto discusso questo piano di dimensionamento scolastico in tutti i territori calabresi Vibo Valencia licenziati tutti i punti in agenda passano a sorpresa all'unanimità anche quella della minoranza restano tuttavia le differenze e le difficoltà numeriche dell'esecutivo limardo quindi parliamo del consiglio comunale di Vibo operazione maestrale due ricorso respinto l'ex manager dell'asp Cesare Pasqua resta agli arresti domiciliari poi ancora chiesta una maggiore presenza di forse dell'ordine nella zona di Porto Salvo di Vibo poi sempre a Vibo verde pubblico ok al regolamento da Mileto arriva anche un altro no al dimensionamento scolastico poi tropea intelligenza artificiale le opportunità gli incontri a Palazzo Santa Care si parlerà anche di legislazione brevettuale europea al via la due giorni del prestigioso convegno internazionale tecniche e Sofia scrive il quotidiano del sud Francesco Misiano visioni rivoluzionari al festival di Pordenone il volume di Eugenio Attanasio poi scoperti sette racconti inediti dello scrittore Julio Cortazar scrive il quotidiano del sud ci torneremo tra poco sulle pagine del quotidiano del sud quando appunto ci avvieremo alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali tv quando appunto andremo a leggere le notizie che vengono pubblicate sulle pagine sportive appunto dicevo del quotidiano del sud intanto un rapido sguardo alle prime pagine del quotidiano nazionale che come dicevano non possono non interessarsi della guerra in Israele i bambini l'orrore la guerra in Israele la Repubblica la strage dei bambini la stampa anche la strage degli innocenti poi libero Hamas decapita i bimbi la sinistra critica Israele il giornale decapitano i bambini ma la sinistra si divide il fatto quotidiano Netanyahu colpevole ha foraggiato Hamas la verità tifano per i macellai di bimbi il tempo la strage degli innocenti l'orrore dei bambini titola il messaggero domani Hamas è il pogromo dei bambini l'orrore ricompatta gli israeliani poi sul sole 24 ore Giorgetti in manovra tagli forti dice il ministro delle finanze poi l'unità Altolà ONU a Netanyahu Israele denuncia atrocità sui bambini anche il mattino il massacro dei bambini scrive appunto poi il manifesto orrorismo scrive appunto in prima pagina il manifesto il gazzettino Israele il massacro dei bimbi il resto del carrino la strage degli innocenti il dubbio Israele incubo senza fine Hamas attacca ancora e massacro nei kibbutz poi il secolo XIX decapitano decapitavano i bambini anche sull'avvenire la strage degli innocenti la notizia le destre fanno quadrato sul Netanyahu che gli stessi israeliani non vedono l'ora di cacciare sul quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia la vulnerabilità italiana e andiamo ora per concludere allo sport gazzetta dello sport Juve fai come noi quindi grandi ex alla carica ecco la foto di Del Piero poi anche di Pratini e Zidane poi questo era su gazzetta dello sport Napoli vota Antonio De Laurenti vuole Conte ma ma pronto Tudor altro allenatore quindi Conte e Tudor insomma si parla di questi due che potrebbero allenare il Napoli lo dice lo scrive anche il Corriere dello Sport Stadio prenditi il Napoli De Laurenti si chiama Conte i campioni d'Italia verso la svolta questo era appunto poi di spalla sul Corriere dello Sport intervista esclusiva all'arbitro Rossato mancano dei nuovi zanetti e poi in basso la Salernitana a Pippo Inzaghi che torna a allenare in Serie A Pippo Inzaghi poi Tutto Sport vincere che bella pressione i cento anni di Agnelli Magica Festa Juve Allegri raccoglie l'appello di John Elkan e poi ultimo stadio per gli europei titola il QS appunto il quotidiano sportivo a proposito di questo andando sul quotidiano del sud Italia e Turchia insieme nel 2032 5 sedi di gara per ogni nazione Gravina lavoreremo assieme per una organizzazione esemplare quindi assegnazione congiunta per la manifestazione in programma fra nove anni parliamo degli europei del 2032 saranno interessati anche alcuni stadi italiani poi Serie B Cosenza solidità da mantenere calcio femminile qualificazione europei under 17 verso la super sfida Italia-Francia Serie B Catanzaro resta concentrato l'appello di Scognamiglio campionato lungo dobbiamo evitare certi errori poi Serie C Crotone la risalita è iniziata con i titolarissimi la Fenice Amaranto Regina insomma una trasferta in casa la Gioiese ha chiesto alla Lega Nazionale di Lettanti di poter giocare domenica prossima appunto Gioiese Regina di poterla giocare al Granillo continua il Tour de Force per la squadra Amaranto con le gare da recuperare la Vibonese sa soffrire ha un grande carattere dice il DS Ramondino la Gioiese esonerà il tecnico Via Caridi lo è esonerato anche Lamezi il tecnico Vanzetto al suo posto Salvatore Marra Castrovilla arriva l'attaccante Francesco Serafino questo era appunto per quanto riguarda lo sport sulle pagine del quotidiano del sud con cui come sempre siamo arrivati alla conclusione anche per quest'oggi dei giornali in tv da Pasqualino Letture è tutto grazie per averci seguito fin qui l'appuntamento è per la prossima edizione Grazie per aver guardato